Cari amici, è un'occasione importante per fare il punto sulla situazione Covid, ma fare anche un po' di chiarezza. Abbiamo avuto una settimana di grande confusione, dietro la quale tuttavia ci sono imbrogli nella comunicazione, la comunicazione di dati che falsano la realtà, il proseguimento dell'operazione Mercato Nero sui vaccini e la verifica sostanziale di una inesistenza, di una linea chiara da parte del governo sull'epidemia Covid. Noi avremmo bisogno in questo momento in Italia di avere un grande spirito unitario e una grande concentrazione sugli obiettivi fuoriuscita dal Covid, rilancio dell'economia del nostro Paese. Per avere chiarezza, per avere unità, occorre partire dalla realtà e fare sempre un'operazione verità. In questo momento la sensazione che ho io è che il dibattito pubblico oscilla dalle banalità burocratiche alla demagogia aperta. Quello che vedo assolutamente assente è la ragione laica con la quale affrontare i problemi. l'ha ragione. Andiamo per ordine. Questione vaccini, problema che ho sollevato all'inizio di questa settimana. Come sapete ho parlato nelle scorse settimane di un mercato nero dei vaccini in Italia. Quando si è insediato il nuovo commissario, il commissario figliuolo, io non dico il generale, dico il commissario figliuolo, il commissario ci ha detto che avrebbe voluto seguire una linea molto chiara. Un cittadino, un vaccino. E noi abbiamo apprezzato, ovviamente. Nel corso di questi tre mesi la regione Campania ha accettato che andassero più vaccini alle regioni del nord, dove vi era una più ampia popolazione anziana. Quindi abbiamo accettato che si anticipassero le consegne ad alcune regioni. Ma con l'intesa che poi, finita la distribuzione anticipata, ritornassimo a un criterio di rispetto rigoroso delle quantità di vaccini distribuite in base alla popolazione. Ad oggi questo non è avvenuto. Anzi, in violazione di quello che aveva annunciato il commissario figliuolo, il problema addirittura si aggrava. Ad oggi la regione Campania viene privata di 200.000 dosi di vaccino. Questa è una vergogna nazionale ed è scandaloso che né i grandi organi di informazione, né le televisioni pubbliche e private, né le forze politiche abbiano il coraggio e la dignità di porre rimedio a questa vergogna. Siamo al limite della delinquenza politica. Io non so come altro denunciare una tale sperequazione nel trattamento dei cittadini italiani. Ora, questo significa semplicemente che noi abbiamo 200.000 cittadini campani che vengono privati del vaccino. A fronte di questa realtà vergognosa è davvero intollerabile dover ascoltare litanie, liturgie, parole prive di senso, banalità. Chiedo a tutte le forze politiche di dare una risposta chiara. Ritenete di rimuovere questa vergogna o no? E assumetevi la responsabilità di quello che dite. Grazie a tutti.